Furto nella notte all'Emporio della Piazza, Bartor Refazione di Piazza della Repubblica. Il locale è stato preso d'assalto dai ladri che hanno spaccato il vetro della porta d'ingresso puntando dritto ai contanti che erano presenti in cassa. Magro fortunatamente il bottino per i malviventi, dato che i soldi conservati all'interno non erano molti, ma lo stupore e la rabbia della proprietà è stata molta quando alle prime ore del mattino ha scoperto l'intrusione nel locale. Ad indagare ora sono i carabinieri per scoprire se sono state lasciate tracce che permettano di risalire agli autori del furto.